Ciao ragazzi! Eccomi qui con un nuovo video, è un video sulle scoperte e riscoperte del periodo, non ho tanti prodotti ma quelli che ho sono delle grandi scoperte e delle grandi riscoperte, quindi ve le voglio mostrare. Sono contenta di questa tipologia di video, sono contenta che vi piaccia perché ho visto molto riscontro e quindi ogni volta che ho delle scoperte e delle riscoperte ve le mostro più che volentieri. Allora, iniziamo dalle scoperte che sono questa Estée Lauder Gentle Eye Makeup Remover che faceva parte di uno dei miei regali di Natale, vi lascerò il riferimento al video What I Got For Christmas, ed è un'acqua appunto che è struccante occhi delicato per tutti i profili di pelle, non oleoso, privo di fragranza e testato oftalmologicamente. Ci siamo riusciti ragazzi, sto facendo lo scioglilinguo. Allora, perché è una scoperta? Perché è straordinario. Non ha la parte antipatica dei bifasici, che è appunto quella di essere oleosi e quindi di dar fastidio nel momento in cui si toglie il trucco, nonostante siano efficacissimi. Quindi, questo io vi voglio far vedere, metto una tinta labbra che poi, metto una tinta labbra qua e lascio un po' che si secca, che si secchi, così vi faccio vedere l'efficacia di questo prodotto. E nel mentre vi faccio vedere la seconda scoperta del periodo, che è questo gel correttivo SOS di Bottega Verde, spero che metta a fuoco, ed è un gel completamente trasparente, che va applicato sopra i brufoletti nel momento in cui compaiono, e riapplicarli poi giorno dopo giorno, proprio si secca e va a scomparire l'imperfezione. Non ho mai comprato dei prodotti del genere, l'ho comprato dopo che avevo visto parlare bene di SOS antiimperfezioni di Wicon, c'era questo di Bottega Verde, che è una marca che io apprezzo molto. Era in offerta e quindi l'ho voluto provare e devo dire che funziona alla perfezione. Mi è comparso un brufoletto qua e un altro qua e lo sto applicando da due giorni e vedo proprio l'assorbirsi dell'imperfezione e mi è piaciuto proprio tanto tanto. È proprio un gel completamente trasparente, quindi la metto sull'imperfezione, massaggio e va a effettuare il suo lavoro, e quindi non ha la parte negativa di alcuni prodotti antiimperfezioni, compreso quello della Wicon, che sono colorati e quindi vanno a creare delle discromie. Ora vi faccio vedere, prendo il batuffolo di cotone e metto un po' di Gentle Eye Makeup Remover. Lo so che riguarda gli occhi, ma se ha l'efficacia su una tinta labbra, come è questa, appoggio. Questo era completamente andato. E ragazzi, sono asciuttissima, cioè il bello di questo prodotto è non solo l'efficacia, ma il fatto appunto che non sia unto, per me è meraviglioso. Niente, sono entusiasta e quindi è una scoperta che voglio condividere, quindi questo e questo. Altra scoperta, ho scoperto il profumo della mia vita. Ho provato questo campioncino e mi piace da morire, subito, me lo comprerò proprio a brevissimo. È il Want di D Squared 2, io non ne ho mai sentito parlare, quindi non so se sia una novità, non so, come mai non lo conosce nessuno. Allora, A, ve lo descrivo, la testa di zenzero, mandarino e peperosa, quindi è piccantino. Il cuore di Neroli, Bigarade, Rosa Damaschena e Eliotropo e il fondo di vaniglia del Madagascar, assoluta di vaniglia e legno di violetta. È persistente, mi dura tutto il giorno, mi piace tantissimo. E proprio è mio, lo sento mio, mi fa sentire bella, a posto, tipo semplice ma sexy allo stesso tempo. Mi è piaciuto proprio tanto, non so quanto costi, non so niente di questo prodotto se non appunto le note olfattive e il fatto che lo adori. Quindi questo sicuramente è una scoperta del periodo, è entusiasta, ne sono. Come una scoperta del periodo, una cosa semplice che però voglio condividere con voi anche questo. È il Licia Antiodorante Original Efficacia Garantita ed è anche questo il deodorante della mia vita. Questo roll-on, io adoro i roll-on. E non solo non mi fa sudare per tutto il giorno, non mi fa sentire il cattivo odore per tutto il giorno, anche se sto tutto il giorno fuori casa, anche se faccio magari qualche attività. Ma quello che mi piace è il fatto che anche in serata mi rilascia questo buon odore che ha il deodorante, che è proprio di sapone, di buono, di pulito. Mentre invece altri deodoranti che ho provato fino adesso, che mi piacciono magari tantissimo, come ad esempio anche quello della DAV con il cetriolo e il tè verde, mi mantiene, non mi fa puzzare diciamo di sudore per tutto il giorno, però non mi dà questo odore tutto il giorno. Invece questo, lì c'è col tappo blu, è ottimo. Scoperta del periodo è Questa tinta labbra che vi ho mostrato nel video haul di Bottega Verde, che ho utilizzato prima per mostrarvi la prima scoperta. Allora, che è questo rosa seta di Bottega Verde. Come sapete io amo le tinte labbra di Bottega Verde, ho quello Red Kiss, che è la mia tinta labbra preferita in assoluto. Quindi mi sono buttata anche su questo rosa, dopo che ho amato il rosa del Cream Lip Stain di Sephora. Quindi li metterò a confronto. Questa è una scoperta, perché questo colore non l'avevo. E devo dire che, a differenza di quello di Sephora, è più confortevole. E mi dura, diciamo sì, come è durata un po' si equivalgono, ma questo è assolutamente più confortevole ed ha magari una punta di rosa più portabile rispetto a quell'altra. Questo, diciamo, è proprio il classico nude da tutti i giorni. Quindi questo. La riscoperta sono due prodotti che avevo già amato, ma poi per diverso tempo non li ho più utilizzati. E sono. Ora li ho messi. Questa mousse volumizzante testa tra le nuvole Avorn e lo spray termoprotettivo per Fon e Piastra. Ti piace e non ti bruci, sempre della Adorn. Allora questo, così metto a fuoco. E quest'altro. Sono dei prodotti buonissimi, della grande distribuzione, costano poco, quindi dategli una chance, provateli, se avete magari anche qualche offerta. E questa, io la metto, metto una noce, perché va saputa applicare, se no sporca i capelli. Proprio una noce di questo prodotto ha capelli bagnati solo sulla cute e quindi vado a fare questo movimento per dare un po' di volume e poi asciugo nella mia maniera disordinata perché io ancora non so dare una piega ai miei capelli, però almeno sono voluminosi e questo mi piace. Poi, dopo che ho messo questa noce di prodotto, metto, vaporizzo su tutta la testa questo spray termoprotettivo che ultimamente non stavo utilizzando più, non so per quale motivo, sia a testa in giù che a testa in su, così va a coprire tutta la fibra, diciamo, capillare, capillare, sì, no, dei capelli. Mettiamo tutta la fibra dei capelli e mi piace tanto perché l'odore è fenomenale, è tipo zucchero filato e proprio gourmand e in più funziona, funziona soprattutto quella volumizzante e per quanto riguarda la protezione dal calore, insomma, devo dire che i miei capelli non sono rovinati, quindi buono. Basta ragazze, le scoperte e riscoperte del periodo terminano qui, spero di avervi tenuto compagnia. Se questo video mi piace, pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, vi lascerò tutti i riferimenti ai miei vari social nell'infobox, compreso Periscope, sono registrata come Preti Vivi 85, vediamoci così, mandiamo in diretta i vari snapchat e vi ricordo che al raggiungimento dei 500 iscritti aprirò il giveaway pieno di prodotti per voi, quindi mi raccomando, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi e basta, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazze, mua!